La nostra emittente Telepace fin dai suoi albori ha sempre fatto giungere il messaggio che vuole essere voce di chi non ha voce. Quale migliore occasione è quella di poter diventare uno strumento per aiutare tanti fratelli e sorelle che dall'interno del carcere, soprattutto in questo tempo di epidemia, di pandemia dove siamo stati tutti isolati, non hanno potuto beneficiare per esempio della lingua italiana, dell'imparare a parlare correttamente. Allora facendo nostra la proposta che ci è venuta dal provveditorato agli studi, da quanti sono impegnati come volontari all'interno del carcere, la proposta di mandare in onda il martedì alle 14.30 e in riproposta la stessa lezione giovedì alle 15.30 l'italiano in famiglia. Questo appuntamento che vi invitiamo a seguire perché certo ha come destinatari coloro che non possono uscire perché sono in carcere, ma tutti coloro che vogliono approfondire la lingua italiana lo potranno fare anche attraverso questo appuntamento.